Nome Lorenzo Età Quattordici Quindici anni Ruola in campo Faccialista Chi è il più forte in squadra? Io E' quello più scarso? Damini, Rebe e Bernardi Gli allievi 99 sono più forti di tutti, perché? Perché siamo di vincere Cosa ne pensi del mister? Un mister con mister per affrontare le partite Ti hanno mai messo fuori rosa? No Secondo te è più importante attaccare o difendere? Tutte e due Ti sei mai arrabbiato con un tuo compagno durante una partita? Pochissima volta E durante un allenamento? No, anche Quando è stata l'ultima volta che hai mandato il mister a quel paese? Non l'ho mai mandato al paese al mister Come la prendi quando finisci in panchina? Si vede che ha meritato qualcun altro Ti chiamo una squadra di serie A per un provino, ma quel giorno gli allievi giocano l'ultima di campionato Cosa fai? Vado al giro per vino Scendi tra Juventus-Milan Bayern Monaco-Borussia Dortmund Barcellona-Real Madrid Hai visto giocare la prima squadra quest'anno? No, mai Se tu fossi in prima squadra cosa diresti mister Sterpi per convincerlo a farti esordire dal primo minuto? Farò il massimo in campo Mi impegnerei molto all'allenamento Il tuo calciatore preferito? Cristiano Ronaldo Tra FIFO PES cosa scegli? FIFO PES La novese vince il campionato Come festeggi? Ma raga Quando giochi ti senti sotto pressione? Delle volte Al novantesimo la squadra sta pareggiando Calcio di rigore Lo tiri tu, prendi il palo Sulla ribattuta calci di nuovo e prendi la traversa Hai ancora un'occasione Ma tiri fuori a porta vuota Poi cosa fai? Mi arrabbio come stai Mi dispera Qual è il tuo sogno più grande? Diventare un calciatore Alla novese Tra voi due chi è il più bravo? Io Facci sentire come esulti quando segni E vai Quanti palleggi consecutivi riesci a fare? Trecento Non ne ho idea Sei sempre stato così bugiardo? No Per finire se vincete la prossima partita farete una dedica al blog della novese? Magari certo Saluta tutti i tuoi fans che ti stanno guardando Ciao fans Bella fans Ciao